Ciao a tutti, sto a Jiaquan in Cina dove domenica ho partecipato alla mia prima 100 km del deserto. Oggi è martedì, qui sono le 6.45 del mattino e niente, vi racconto questa mia esperienza difficile perché ci ho messo un po' ad abituarmi alla Cina, anzi non mi ci sono ancora abituato. Il cibo è un po' diverso e anche da bere è diverso, basti pensare che servono il succo d'arancia caldo a pranzo. Per quanto riguarda la gara ho avuto problemi sui ristori, ingenuamente pensavo che dessero come nei ristori italiani ogni band di Dio a ogni pochi chilometri e invece bisognava portarsi un po' di cose dietro che non mi sono portato, quindi ho sofferto fame e sete nel deserto, insomma un incubo. Nel finale anche tanti tanti grampi, però sono contento di aver fatto questa esperienza. Sono arrivato quarto, 8 ore e 34, ho corso forse un po' lentamente ma ho perso molto nel finale. Il ragazzo che mi ha raggiunto al settantesimo chilometro è arrivato primo, non perché ero primo io ma perché davanti a noi erano scoppiati tutti, indice appunto di una gara abbastanza difficile ma non difficilissima. Bastava forse un po' più di esperienza, un po' più di consapevolezza, un po' più di intelligenza da parte mia e sarebbe andata meglio, però va bene, accettiamo quello che viene e buona corsa a tutti.